analizziamo ora invece la potenza assorbita da un motore sempre di potenza 2kW ma in caso trifase. Trifase cosa vuol dire? Devo dire che abbiamo 3 conduttori cioè 3 fasi che noi chiamiamo anche se non è più la denominazione più corretta per questo buon sfuggione, per quanto trattiamo di motori, se il motore è trifase, gli si vuolvano di circuiti trifase potremmo anche vedere, lo vedremo in seguito. Partitona? Sì! Partitona? 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 Act Barely parti! Partitona? Perm particulara менedora, traveled wacienda perag¯algua purwano! Partiton? Grazie per la visione!